Nella fantastica zona di Scopello, a pochi passi dal mare, a pochi passi dall'antica Tonnara e a pochi passi appunto dai Faraglioni di Scopello, sorge uno spettacolare residence, il residence di Faraglioni. Andiamo a visitarlo. Siamo nella zona solarium e piscina del residence di Faraglioni, sono qui con Cenzio, che è il titolare di questo splendido posto. Mi parli un pochettino della tua struttura? La nostra è una struttura innanzitutto a gestione familiare, quindi chi che viene qua non c'è rapporto cliente-albergatore, ma si crea un rapporto d'amicizia. Noi ci rapportiamo e cerchiamo di dare dei consigli giornalieri con chi viene da noi, consigliando quello che è il bel posto di mare che abbiamo, perché noi siamo a un chilometro dai Faraglioni dalla Tonnara di Scopello, a meno di tre chilometri dall'ingresso della riserva naturale, a un chilometro dal borgo di Scopello. Raggiungere il residence di Faraglioni è facilissimo, perché è esattamente sulla strada principale di Scopello, quindi è assolutamente facile da trovare. Se arrivi a Scopello hai poco da cercare, arrivi e siamo qui. Ti volevo chiedere una cosa, tu so che hai molti posticini tuoi favoriti, hai comunque delle convenzioni con dei posti particolari dove si può mangiare bene e stare bene se il turista vuole non solo stare in queste case. Il discorso che dicevo prima, la gestione familiare, è proprio quella di cercare di dare alle persone la possibilità di spendere meno. Noi non cambiamo i prezzi da quando abbiamo aperto, cioè dal 2002. Abbiamo sempre delle convenzioni, diciamo aggiornate, con degli ottimi ristoranti della zona che invece di prendere la commissione noi preferiamo che fanno lo sconto al cliente. Direttamente? Quindi il cliente quando è che va a mangiare sette giorni fuori, una gli viene quasi gratis. E abbiamo una convenzione con un forno che fa tutte le specialità della zona, il pane punzato, lo sfincione. E' buonissimo, ora me lo vado a mangiare appena finiamo l'intervista. Esatto, tutte queste cose che la gente apprezza tantissimo, infatti quando vengono diciamo che c'è da dire che comunque i nostri appartamenti sono muniti di tutto, perché da noi c'è entrata e veranda autonoma. Infatti, mi dicevano proprio questo, che comunque da voi è arredato, corredato di ogni comfort. Dentro abbiamo locali climatizzati, con televisori, stoviglierie, date tutto dalla A alla Z. Noi nel nostro prezzo è un prezzo finito e diamo dalla biancheria, da camera, da cucina e da bagno a quello che può essere tutte le stoviglie, climatizzato, il parcheggio assegnato. Ma i vestiti ce li dobbiamo portare noi da casa o li troviamo nell'armadio? Il telo bagno, il telo bagno, il costume ve li dovete portare. Ok, perfetto. Quindi andiamo in vacanza soltanto con un telo bagno qui ai Faraglioni, un costume da bagno perché poi abbiamo tutto. Abbiamo appunto il nostro solarium, la piscina, ci sono i parcheggi con idromassaggio, fra l'altro, che è molto apprezzato. E poi ricordiamo anche che qui abbiamo i parcheggi addirittura assegnati per ogni appartamentino. In più abbiamo la possibilità comunque per chi è capace, è in grado di portare una barca o un gommone, la possibilità del noleggio a prezzi convenienti rispetto a quelli che sono i prezzi di mercato, la possibilità da Trapani di fare delle escursioni alle Isole Gadi, una mini crociera in giornata quindi Favignana, Levanzo e Marettimo che è assolutamente consigliato perché è qualcosa di eccezionale. Ovviamente da non dimenticare, vista la vicinanza che abbiamo a Trapani, la visita di Trapani che è diventata negli ultimi anni una città turistica e piacevole da vivere. La nostra, ripeto, non è una grossissima struttura, però cerchiamo di dare i migliori conforti possibili. Tattomeno a quelli che possiamo accogliere. Io penso che più invito migliore di quello suo non ci possa essere. Vi invito anch'io a venire a visitare Scopello e venire a stare qui a Residenza dei Faraglioni per poter stare al massimo del comfort. Anche per oggi per noi è tutto la viaggiamo in Sicilia. Ci vediamo alla prossima. Grazie. Con piacere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.